Ciao bimbi, come state? Questa è la settimana della presentazione dei gemellini e ho pensato di preparare dei panini speciali. Andiamo a farli insieme. Ciao! Per fare i panini ho pensato di prendere del pan carré bianco e condirli con prosciutto e stracciatella, ma vorrei anche utilizzare questa formina per darle una forma un po' più simpatica. Quindi faccio la forma. Dopo aver fatto gli stampini al pan carré bianco, li condisco andando ad aggiungere una fetta di prosciutto cotto e un po' di stracciatella. Ora andiamo a mettere la fetta di prosciutto sopra e sono pronti per essere mangiati.